Da quasi 30 anni 9.000 giri è il punto di riferimento per gli appassionati dei motori, delle elaborazioni e degli accessori per tutti i tipi di autovetture. 9.000 giri propone con passione e serietà una vasta gamma di preparazioni che rispettano sempre il principio modificare per migliorare. Aumento e ottimizzazione delle prestazioni del motore, riprogrammazioni centraline, costruzione artigianale di impianti di scarico sportivi, miglioramento dell'assetto e della frenata, ma anche modifiche di carattere estetico grazie ad un catalogo di cerchi e